Anche Sondrio e Lecco, interessate dal valzer dei 28 prefetti, deciso nella riunione di giovedì sera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. In riva all'Ario arriva Michele Formiglio, 60 anni avellinese di origini, dall'85 nell'amministrazione dello Stato, al suo primo incarico da prefetto. Proviene da Perugia, dove ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di vice prefetto vicario. Lecco così saluta Liliana Baccari, giunte in città nel giugno 2015 dopo un breve periodo di vacanza nell'ufficio di Corso Promessi Sposi, è oggi destinata a Roma, dove svolgerà le funzioni di capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione, struttura del Viminale, che esercita funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative. New entry anche a Sondrio, dove arriva Paola Spena, prefetto di prima nomina, 59 anni, nella pubblica amministrazione dall'87, ha svolto buona parte della sua carriera in Campania, presso la prefettura di Napoli, dove si è occupata anche di antimafia e terra dei fuochi, svolgendo anche il ruolo di commissario in diversi comuni sciolti per infiltrazioni criminali. È stata per alcuni anni vice capo di gabinetto presso la regione, dal 2017 era vicario della prefettura di Torino. In Valtellina prende il posto di Giuseppe Mario Scalia, che ha occupato l'ufficio di Palazzo del Governo dal 2016 a oggi e che ora, al compimento del 65esimo anno di età, si appresta ad andare in pensione.